Ciao a tutti, grazie per essere qui sui podcast di Opinions Bifarm. Oggi parlerò di StartupRocket.com, l'applicazione adatta per creare e far crescere la tua impresa. Utilizzato da fondatori, coacher, comunità di investitori, Startup Rocket è la web app collaborativa che supporta lo sviluppo di progetti di business ad avere successo. Nel prossimo audio invece parlerò di CamlyWriter.com, un editor di testo basato su web e progettato per farti concentrare su ciò che vuoi raccontare con un'interfaccia semplice, discreta e facile da usare. Startup Rocket è una piattaforma in cloud di supporto ai fondatori, una collezione di strumenti adatti alla pianificazione e di sviluppo di un'idea d'impresa, oppure di un progetto corredata da una guida passo passo che ti permette di iniziare dalla descrizione dell'idea fino alla costruzione di un business plan completo con piani e proiezioni finanziarie. La piattaforma funziona in cloud e ti permette di concedere l'accesso sia ai collaboratori che potranno aiutarti nella compilazione e documentazione, sia ai soci o finanziatori che saranno aggiornati online e potranno vedere in ogni momento lo sviluppo delle attività finanziate e anche interagire facilmente tra soci. Come fare è semplice e se vuoi provarlo e capire se è lo strumento adatto alle tue esigenze lo puoi attivare nella versione gratuita. Comincia da qui, usa il tuo browser preferito, scrivi nello spazio di ricerca startuprocket.com, si apre l'home page, da qui crei il tuo account, poi registrati con il tuo account di linkedin oppure di facebook oppure ne crei uno nuovo usando la tua email preferita. Seguendo le istruzioni, sempre aggiornate, terminerai la tua registrazione e da qui potrai accedere al tuo account vero e proprio. Il mio consiglio è di leggere i tutorial che sono formati da una struttura della piattaforma prima di immergerti in quella che è la configurazione del tuo primo progetto e per farlo troverai tutorial alla pagina principale e dal menu che trovi in alto clicca la voce pages, si apre un menu a tendina e da qui clicchi la voce framework. Il tutorial è strutturato come un percorso lineare che ti porta passo passo dalla descrizione dell'idea fino alla raccolta fondi passando per le varie tappe del percorso che un progetto organizzato dovrebbe fare. Non mancano le infografiche nel percorso di apprendimento che rendono più facile comprendere quello che devi fare per usare il framework e rendere più veloce la preparazione documentale. Dopo la lettura della pagina iniziale sarai curioso di preparare la tua prima struttura e dare corso alla creazione del piano per dare vita alla tua nuova idea di business con la speranza che si trasformi in una startup divertente e redditizia. Prepara la tua prima struttura usando il menu in alto della pagina iniziale. Clicca su My Ventures e dalla tendina che si apre clicca il bottone giallo New Ventures. La struttura ti permette di costruire pagine operative personalizzate in base al tuo modello di business. Come potrai vedere tutto il processo è guidato e strutturato passo passo per farti riempire i campi vuoti di ogni singolo documento di progetto, riempire con le tue informazioni e le tue scelte di percorso. Spesso le scelte sono agevolate da voci precompilate e sempre aggiornate. Altre volte sarai costretto a riflettere rispondendo a domande create con lo scopo di aiutarti a costruire il piano in modo adatto e professionale. Grazie per ora e resta connesso ai podcast di Opinions Bifarm. A presto, ciao!